In pratica ieri mattina verso le otto e mezza mentre stavo qui al mio stabilimento per fare qualche lavorettino dentro di sapere perché tra poco inizia di nuovo la stagione balneare e quindi dobbiamo aprire sento degli strilli sia delle persone e sia degli ululati dei cani e mentre vado sotto vado a vedere cosa è successo vedo un uomo sraiato per terra lungo la passerella e vedo un pastore tedesco di grande dimensione che aveva zannato un bassotto e cercava in bocca, cercava di strizzarlo da una parte inaltra Tutto questo a pochi giorni dall'attacco di un pitbull che a Monte Silvano ha ferito due donne e ucciso un cane e un gatto Intorno alle otte e mezzo di ieri il pastore tedesco ha zannato il povero bassotto lungo il tratto di spiaggia antistante allo stabilimento a pollo di Pescara ed è stata soccorsa da una clinica veterinaria a Camilla Questo il suo nome è stata sottoposta a un intervento chirurgico Il cane era stato tra l'altro aggredito dallo stesso pastore tedesco anche la scorsa estate A evitare il peggio l'imprenditore Domenico Pagliari, titolare dello stabilimento Apollo che ha assistito alla scena e intervenuto immediatamente Poi altre persone sono intervenute, tutti quanti strillavano a gran voce perché comunque era una scena poco bella da vedere E a un certo punto non si riusciva, non mollava la presa Ho dovuto prendere un attrezzo che in quel momento c'eva una pala perché stavo levando della sabbia pure L'ho dovuto rincorrere il cane, fino a quando sia il cane grande che il cane piccolo sono arrivati in mezzo alla strada Vicino alle strisce pedonali, quell'ingresso del parco Villa Erisis Rischiando pure di tamponare perché 6-7 macchine si sono fermate Meno male altrimenti investivano i cani Diciamo si sono fermati Il cane è il bassotto, ha zannato Infatti tant'è vero che ho saputo tramite i giornali che deve essere sottoposto stamattina a un intervento chirurgico E niente, poi la padrona è intervenuta, il signore si è sentito male Tant'è vero che pure lo conosco perché è un mio cliente Quindi diciamo l'ho dovuto accompagnare a casa, tutto impaurito E niente, ma questa è una situazione che ogni anno si ripresenta Perché tutti i giorni noi abbiamo cani di grande taglia che vanno sul mare Ma anche per loro giustamente, però la colpa non è loro E dei padroni perché non eseguono le direttive che il comune e la regione ha dato per frantare i cani in spiaggia Quali sono le direttive? In pratica io so che la direttiva già emanata dal comune di Pescara l'anno scorso E che i cani se vogliono andare in spiaggia innanzitutto da quando inizia l'inverno Quindi dal 15 novembre fino al 10 marzo, data che esce la nuova ordinanza Possono andare solo se accompagnati col guinzaglio E poi come succede anche qui sulla strada Quando fanno gli escrementi dovrebbero raccoglierli e metterli negli appositi contenitori E poi c'è la stagione baleare, la stagione turistica Ci sono degli stabilimenti che accolgono i cani ma con determinate precauzioni Io che so sono uno dei pochi che i cani li fa entrare perché ho avuto il cane Amo i cani, però li amo, però è anche vero che bisogna seguire dei regolamenti I cani non hanno nessuna colpa, i cani fanno quello che dice il padrone Se il padrone li educa in un determinato modo i cani si comportano bene Se i padroni non li educano i cani fanno quello che, ecco come l'anno scorso Qui davanti a Oriente un bambino è stato azzannato qui alla mascella E se tu sei dovuto operare mi sembra anche il labbro Perché quel pitbull pure l'anno prima aveva fatto la stessa cosa con un'altra persona Grazie